Giovedì 31 marzo i cervelli italiani si sono riuniti per la notte dei giovani imprenditori all'I3P, luogo dove le idee innovative possono prendere forma. I3P è l'incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, è attivo dal 99 ed è un luogo fisico dove noi ospitiamo delle aziende che vengono create o da giovani ricercatori o studenti anche del Politecnico o perché no, da giovani manager che arrivano dal mondo del lavoro e che ritengono interessante avviare la loro impresa qua all'interno dell'incubatore, perché in questa maniera sono vicini al centro della tecnologia della regione. Durante la serata è stato assegnato il premio di imprenditorialità europea StartEnt a nuovi imprenditori. Per noi è stata quasi una sorpresa ottenere questo premio, abbiamo partecipato così un po' per gioco a questo concorso e evidentemente l'idea ha pagato perché questa volta abbiamo ottenuto la seconda posizione, forse anche perché siamo in rapida crescita, eravamo due nel 2008, come vedete adesso, siamo in sei con una crescita del fatturato che raddoppia ogni anno praticamente e quindi speriamo che questa vincita sia un buon segno per il futuro. Per l'immediato abbiamo un progetto in collaborazione con una grossa impresa elettronica, in effetti stiamo cercando, visto che Carriertv è un ingegnere elettronico specializzato in semiconduttori, se qualcuno volesse contattarci, per coinvolgere in un progetto di circa due anni con grosse prospettive. Invece a cinque anni puntiamo a crescere, pare che magari aprirà anche una sede all'estero. A ricevere un riconoscimento sono stati anche giovani studenti, che potrebbero in futuro concretizzare i loro progetti. Ovviamente i 5.000 euro che abbiamo vinto come primo premio nella categoria dei progetti internazionali, perché la nostra categoria è appunto quella dei progetti internazionali, infatti lui è spagnolo, io sono italiano, e i Reader è una piattaforma che si rivolge a tutti gli utenti di diversi paesi. Con la funzionalità delle traduzioni, quindi intendiamo appunto dare questo strumento alle persone per collaborare worldwide, potenzialmente. E quindi, siccome stiamo facendo il dottorato, questa idea rimarrà in cantiere, penso, e magari con qualche altro aiuto, trovando dei collaboratori esterni, potrà essere magari implementato in un futuro. Biotech R è il progetto che abbiamo realizzato assieme a Enrico e a Vertigo Tech, e consiste nella realizzazione di un sistema per permettere di fornire elettrocardiogrammi professionali all'interno delle farmacie. Un domani, una versione ridotta può essere messa in vendita, in modo tale che le persone possano portarselo a casa, in modo tale da poter avere la stessa vicinanza, lo stesso rapporto che hanno con il loro medico curante, il loro cardiologo di fiducia, anche se non si spostano da casa o hanno problemi motori. L'evento è stata l'occasione per ascoltare i consigli di Confindustria. Confindustria Giovani lavora molto bene sull'education, con diverse commissioni. Ci sono molti progetti in campo. Noi su Torino, per esempio, stiamo facendo una collaborazione col Politecnico, proprio col corso di imprenditorialità e business planning, dove abbiamo già dato delle idee, dove abbiamo raccolto delle idee per sviluppare agli studenti dei business plan e la massima collaborazione per quello che riguarda il futuro di questi studenti.